Massimo Fiorezza, Dio vi benvenuto a tutti i giorni, che vi dia sempre la sua benedizione per che possiate proseguire in questo canto, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Il mondo è una sola luce, un unico volo, un solo sentiero per vivere. Ancognici ogni volta, ricorderemo chi è gentilità, un'unità, e facci riscobbire allora il senso del cuore, di solo che fa uno, uno in te. Il mondo è un'unità, 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 un'unità. Il mondo è un'unità. Il mondo è un'unità, 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 un'unità. Il mondo è un'unità, un'unità, un'unità. Un'unità, 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 un'unità. Questo è il tipico vestito che si mette tutte le mattine dal Lizzi. Prima di andare a fare ginnastica. Prima di andare a fare ginnastica. Esatto, vero. e questi sono quelli che l'hanno fatta bravi, 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 bravi grazie, grazie eccoci qua, lui diventerà molto molto famoso figlia mia, pensaci tu ad esplicitare una poesia che si è sciolto grazie, grazie 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 grazie